Come sta andando questo congresso? Come sta finendo? Mi pare che il finale sia un finale, dovremo vedere i risultati delle votazioni, ma il finale a livello del partito transnazionale non violento e traspartito che credo sia sicurissimamente una forza che possa essere, essendo animato dal mondo, essere animatore. Questo miracolo si è realizzato, il miracolo della partecipazione, quello che ci hai detto? Sì, lo chiamavo miracolo, ma credo che non evocavo miracoli gratuiti dal cielo e stavo dicendo che possiamo insieme fare un miracolo se per 48 ore ascoltate il mio invito a recuperare i limiti per i quali tanti di voi non verrebbero sicuramente al congresso. Infatti, attraverso la voce di Radio Radicale, che è una voce immensa e minima allo stesso tempo, abbiamo avuto una partecipazione quantitativa e qualitativa straordinaria. Grazie Marco. Grazie a voi.